Liberi.tv ha l'onore nella giornata di Adonni di confrontarsi con Gloria Bellichi, l'emblema della bellezza. Gloria ha avuto un trampolino di lanzo con un concorso molto importante ma si è assolutamente affermata con tutte le sue caratteristiche di donna a 360 gradi. Attrice, scrittrice, neomamma, l'intervento di oggi Gloria è supportato da un'associazione molto importante su Uncorda che si occupa dell'affermazione della donna nella società. Che cosa ci racconterai? Il mio intervento di oggi sarà costituito da una serie di pensieri, di riflessioni che faremo insieme e che verranno anche in maniera naturale dopo aver sentito i primi interventi. Comunque ovviamente si parlerà di bellezza, quando si parla di bellezza viene naturale poi parlare di donna, la donna è protagonista sempre nel bene e nel male quando si parla di bellezza. La bellezza che dovrebbe essere qualcosa di bellissimo, di semplice da vivere e semplicemente qualcosa di positivo. Delle volte invece, soprattutto oggi, magari si rischia di arrivare ad avere un rapporto di amore e odio con la bellezza, con la bellezza che viene imposta dai media, dalla società. E quindi, come poi farò riferimento durante il mio intervento, è paradossale perché soprattutto l'Italia che ha sfornato artistiche della bellezza hanno assolutamente saputo cosa farne creando capolavori famosi in tutto il mondo. Oggi invece pare che sia difficile convivere e gestire questa bellezza. E quindi, insomma, parleremo così in maniera amichevole, intima, insomma, della bellezza della donna. Ovviamente mi fa piacere essere qui anche perché della donna, insomma, me ne sto occupando da tempo insieme a Janet Denardis, con cui abbiamo fondato questa associazione, Sursum Corda, che appunto ha come obiettivo quello di valorizzare il ruolo della donna a 360 gradi nella società di oggi. Quindi dalla cultura alla società alla famiglia. Perché la donna è un po' il motore virtuale della società. Insomma, è importante che vengano riconosciute tante caratteristiche, soprattutto positive, della donna, perché poi se c'è una donna tutto il resto va bene. Non si dice spesso dietro un grande uomo c'è una grande donna, dietro una famiglia c'è una grande donna. Insomma, e quindi ovviamente riconoscere e tenere i riflettori accesi sulle problematiche che riguardano la donna nel suo quotidiano è sicuramente... Senti una cosa, adesso tu hai da gestire due maschietti a casa, Gianmarco e Gianpaolo, il tuo compagno. Io ti chiedo solo questo, velocemente chiudiamo proprio con una battuta. Oggi Papa Francesco ha detto che le donne hanno un cuore paziente. Tu sei più paziente come mamma o come moglie, compagna, insomma? Guardi, io sono paziente sempre, cioè come mamma, come moglie, come cittadina del mondo, cioè sono molto paziente. È ovvio che come tutte le donne siamo molto pazienti, molto condiscendenti, si dice multitasking, abbiamo mille capacità, insomma siamo delle eroine Marvel praticamente, cioè insieme donna ragno, donna queer, regina bianca, ce l'abbiamo tutte. Però poi a un certo punto abbiamo bisogno di essere riconosciute e anche noi di tirare un attimo il respiro. Grazie a tutti.